Mese di aprile, bassa stagione, dopo una Pasqua che è venuta forse troppo presto, come si presenta il territorio Claudio Cigliano? Il territorio è molto molto abbandonato, insomma riceviamo un sacco di lamentelle da parte dei clienti, è venuta una signora tedesca che si è regalata una vacanza per il suo 93esimo compleanno, è di Berlino, e mi ha detto, io sono andato dappertutto nel mondo, mi sono regalato questo viaggio a Ischia, perché ho letto della Perla Verde del Mediterraneo, sono andato da fuori di Ischia, un posto così trascurato non l'ho trovato da nessuna parte, eppure ho viaggiato tanto, quindi la signora di 93 anni veramente avrà fatto di viaggi. Devo constatare che la signora ha ragione, perché io stamattina sono andato a accompagnare mia figlia ai Poseidon, le transenne prima di arrivare al Poseidon, le aiole sporche, perfino davanti alla cassa della consigliera Graziella Orlacci, quindi neanche la cura proprio, quindi come possiamo sperare che con questi amministratori, che non hanno cura per il proprio, possano curare il paese? È una cosa terribile, e quindi niente, il territorio per il momento si presenta male. Per quanto riguarda le presenze, cosa è successo? Ci sono, la maggior parte si grogiola nel dato di fatto che siccome le altre mete turistiche che si affacciano sul Mediterraneo quest'anno per forza maggiore saranno meno visitate, il ripiego naturale dovrebbe essere questo, e quindi si impegnano ancora meno in quello che dovrebbero fare per presentare al meglio l'isola, oppure anche per fare della promozione, perché vedo che è proprio tutto completamente firmo. Però intanto c'è partecipazione a queste fiere internazionali? Sì, questo sì. L'unica nota positiva è stato questo sprint di energia che è venuto da parte di un pezzo dell'amministrazione. Ma ci sarà un reale ritorno poi? Il problema è questo, perché se si catturano nuovi clienti e arrivano in un territorio che poi è così impreparato ad accogliere al meglio dei clienti, l'effetto è controproducente, come la signora di cui vi raccontavo prima.